Buongiorno, moglie. Buongiorno, marito. Signora Grey, guarda fuori dalla finestra. Ti porto via per questo weekend. Mi sembra di vivere in un sogno e lo sto facendo con te. Ufficio di Anna Grey. Passerò alle 5. Potrei non aver finito a quell'ora. Posso guidare io? No. È bellissima. L'ho comprata, per noi. È splendida. Christian, la posizione è perfetta. Ti allestirò una casa favolosa. Smettila di parlare a mio marito come se io non fossi qui. Anna. Puoi chiamarmi signora Grey? Devo comportarmi male più spesso. Ci stanno seguendo. Come stai, Anna? Jack, che cosa vuoi? Vuoi giocare? Sì, signore. Christian. Ho giurato di proteggerti e lo farò. Non puoi tenermi in gabbia. Ho giurato di amarti fedelmente. Rinunciando a tutte le altre. Ci sei andato a letto. E di darti conforto nelle difficoltà. Finché morte non ci separe. Perché mi sfidi? Perché posso. E di darti conforto nelle difficoltà. E di darti conforto nelle difficoltà. E di darti conforto nelle difficoltà. Grazie a tutti